Appartamento in affitto, via Macelli Sozziglia, appartamento arredato, perfetto, veramente perfetto, come dicono tanti miei colleghi, una vera bomboniera. Qui abbiamo subito una zona giorno, living, chiamiamola come vogliamo, di ingresso, con doppia finestra. Siamo su via Macelli, quindi anche gli arredi sono tutti nuovi, rifinitura in Ardesia. Qui abbiamo un bel mobiletto, qui cucinino, tutto nuovo, lì si intravede la camera che poi vedremo, deve arrivare ancora alla porta. Qui con una bella porta scorrevole, molto carina, in legno, abbiamo il bagno, anche questo nuovo, verrà messa la lavatrice, Quindi qui parte lavabo, tipo antibagnetto, e qui un bel box doccia, con appunto il posto per la lavatrice. Tutto elettrico, quindi casa veramente pronta. Quindi qui li vediamo, qui è stato appunto esaltato questo trave. Quindi qua su via Macelli abbiamo l'ingresso soggiorno, qui appunto un bel cucinino, e poi silenziosissima, la camera matrimoniale, che come ho detto prima, va ultimata di porta, e qui verrà messo un bel armadione. Anche qui si vede un bel trave. Doppia finestra anche qui, letto matrimoniale, materasso come si può notare, nuovo, quindi tutto nuovo, non hanno badato a spese. E qui vi è un piccolo armadio muro, un postiglietto, insomma chiamiamolo come uno preferisce, bello capiente. Quindi serramenti di ultima generazione, impianti fatti, quindi casa veramente perfetta. Poi troverete tutte le descrizioni di prezzo, è tutto bene sul sito, è esposto bene. Direi che appunto l'immobile è terminato, per qualsiasi informazione non esitate a chiamare. A presto!